Musica Vuoi dire tu dove andiamo per questo ponte di Pasqua? Lo dico? Alt, fermi tutti. Magari alcuni di voi si staranno chiedendo Lei chi è? Lei si chiama Chiara, è la mia ragazza e ci siamo conosciuti alla Bocconi Lavora anche lei a Milano, in finanza, in Big Four Sarà co-protagonista in questo nuovo video Proseguiamo Dai dillo Canarie Ale Ma nel video di oggi andremo a provare e vedere la business lounge nell'aeroporto di Oreo Se ci fanno entrare Se ci fanno entrare, perché qua abbiamo l'ansia di come siamo vestiti Siamo arrivati qua in aeroporto e adesso l'obiettivo è andare nella lounge qua a Dorio grazie ad Amex Però abbiamo letto che l'abbigliamento deve essere business casual Quindi siamo un po' in ansia Facci vedere come sei vestita, il tuo outfit Jeans, scarpette, voglio il cibo Io invece maglietta bianca, camicia nera di jeans Poi un giacchetto, perché dove andremo sarà molto ventoso Jeans normali e scarpestive Speriamo che ci facciano entrare C'ho una fame e non vedo l'ora di essere là nella lounge per mangiare Tu come te l'aspetti questa lounge? Tipo quella dei film Tipo un open space con... Tante cose figlie Con, sì, buffet Fitto gratis Visuale privilegiata Però magari non è così, eh? Vediamo, lo scopriremo Magari abbiamo tante attese e poi faccio È la prima volta che non vedo la Chiara col cartaceo Finalmente è passata al digitale Stiamo arrivando Adesso l'unico obiettivo che abbiamo di fatto è trovarla Ed entrare Ed entrare Ci siamo, l'abbiamo trovata Vediamo se ci fanno entrare Adesso c'è l'imbarazzo della scelta di dove posizionarsi Guardate qua che spettacolo Qua Boh Prima guardiamolo tutto Anche da quest'altra parte Vabbè ma qui sembra di essere in aula studio La Bocconi Su questi tavoli Pure erano simili a quelli del Taiwan Non mi ricordo più Queste qua sono le meeting room Sulla sinistra E qui direi anche spettacolare questa parte In tutte le sedie, le poltrone Tra le nuvole Ma direi che per essere comunque un aeroporto secondario Dove spesso ci sono voli low cost Questo qui di Orio Bergamo Come lounge non è per niente male Adesso ci siamo posizionati qua Qui vediamo anche direttamente gli aerei Siamo in palese difficoltà Si vede proprio che non siamo abituati a questi posti La Chiara vuole direttamente mangiare Io però voglio provare tutto Quindi prima colazione Brioche e yogurt Proviamo un attimo a condividere le prime impressioni su questo lounge Mentre la Chiara qua che sta finendo di lavorare Per me è tutto spettacolare al momento Fighissimo Soprattutto l'arredo di tutti i divani che hanno le poltrone Super super comode Soltanto che su internet avevo letto qualche piccola critica Per il fatto che non fosse direttamente sul ieri Ma che al piano di sotto ci fossero comunque le persone Quindi la vista un pochino chiusa e limitata Per il momento abbiamo trovato la colazione Adesso comunque sperimenteremo anche qualcosa da bere E poi il pranzo La parte che personalmente però preferisco è questa qui Non so perché ma queste sedie mi piacciono Mi piacciono un botto di qua Il problema è che qui non c'è chiaramente la vista Perché l'aereo e le partenze sono dall'altra parte Però qua è tutto molto figo veramente Qua ci sono degli armadietti E qui dietro ci sono le room office Tu hai bisogno di fare delle riunioni mentre aspetti Vieni qua e qua dentro Puoi lavorare benissimo senza alcun problema Addirittura sala fumatori Questo dovrebbe essere uno stand per i dolci Adesso chiuso E qua controlli poi tutti i tuoi voli Un commento da parte tua Vabbè magari quelli sono tutti in un'agità tutta insieme Qua praticamente ti puoi fare tutto il caffè Il cappuccino, il latte macchiato che vuoi Acqua, tè Qua insomma è la zona della colazione la mattina Poi il frigo Io non ho capito se puoi prendere tutto Qualsiasi cosa Credo di sì Non ci sono problemi Quindi coca cola Schweppes Crodino Andiamo a mangiare Sei pronta? Hai finito di lavorare? Io mentre sto continuando a sperimentare Scoprire Andare in giro Mi sono preso una bella lasagna ora Il punto è che si capisce Quello è che noi siamo pesci fuor d'acqua E non ci siamo mai venuti Perché tutti si sanno muovere Ordine Non capiamo Ci vergogniamo Quasi chiedere le cose gratis Non proprio per noi Lasagna buona 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 Comunque mi sono andato a prendermi una biretta Era il cavatappi più complicato che abbiamo mai visto Nella storia dei cavatappi E' arrivato subito un signore con la caracolla valice E mi ha detto guarda che si apre così Cioè esperto che viene sempre in questi posti E io figuraccia Lascio cose in giro Prima ho lasciato un telefono Adesso il cavalletto è laggiù Allora noi siamo entrati qua grazie ad Amex Che è la carta che io utilizzo La carta gold Che ti da due accessi gratuiti alle lounge Durante l'anno solare Farò presto un video sul canale Su come funziona questo servizio Ma anche tutti gli altri benefici Di cui puoi godere Avendo questa carta Quindi iscrivetevi al canale Anche per non perdere il video Specifico Quando uscirà La Chiara si è presa un toast Io mi sono preso un'altra mini porzione di lasagna E sono venuto di qua Nella zona più silenziosa che mi piace di più Per quanto riguarda invece l'aspetto bevande C'è una completa scelta di qualsiasi cosa che tu voglia Compreso alcolici Mentre per quanto riguarda il cibo Da quello che ho capito È essenzialmente tutto gratuito Tranne pochi piatti Che sono a pagamento Effettivamente come scrivevano In alcune recensioni utenti online Le porzioni non sono abbondantissime Ma comunque secondo me Non c'è alcun problema Anche se in realtà Questo aspetto Sembrava muovere delle grosse critiche Da parte di chi ha sperimentato Più lounge diverse In differenti aeroporti Per me stare qua qualche ora Piuttosto che nelle sedie scomode del bar fuori È una situazione molto più piacevole Guarda da lì col suo caffè Comunque tu non ti sei mostro da questa postazione Ti sono andata alla scoperta di tutti i luoghi Perché io ho trovato questo luogo confortevole E di spostare Il tuo habitat naturale Da bere hanno veramente qualsiasi cosa Ma mi sono preso un'altra birra dai Mentre eravamo nella lounge A un certo punto Riconosco un volto noto Ma certo È Giuseppe di Project Happiness Ormai Lui è uno degli youtuber più famosi in Italia Grazie ai suoi video E alle sue straordinarie avventure E a me Da grande fan quale sono Non sembrava vero Averlo incontrato L'ho affermato Citandogli l'autotrappola Il concetto che lui stesso Aveva spiegato Durante il suo recente TED Talk Lui è una persona Troppo buona Ed estremamente gentile Si è infatti fermato A parlare con noi Per almeno 15-20 minuti Alla fine Non me l'ha chiesto direttamente Ma ti rispondo in questo video Giuseppe Per me La felicità È averti incontrato E aver scambiato Quattro chiacchiere insieme Io non capisco Infatti gli avevo scritto La mia proposta Era per cercare di Catturare la sua attenzione La mia proposta Nella mia proposta Nella mia era Non capisco Perché tu sei così Bravo In finanza Poi la fine E lui fa migliori Un po' più In vegano Non capisco Perché non facciamo Focus Io lo faccio Cioè io lo faccio Proprio Proprio È veramente Una Una valvola di sforo Quindi qua Potrebbe farlo ancora meglio Molto più Impegnato Proprio Impegnato Proprio Proprio Divertirete Adesso Ti offro tutto Quello che c'è Nella lounge Siamo arrivati quindi al gran finale Anzi di grande e glorioso non ci è rimasto ormai nulla Devo infatti intervenire nuovamente io come voce fuori campo La clip che avevamo registrato nella lounge e che doveva essere la degna conclusione di questo video ha un audio pessimo non si sente nulla che palle quindi provo a riassumervi quello che era chiara stavamo provando a dire siamo entrati nella lounge sfruttando il doppio ingresso gratuito che ti offre la carta American Express così come stavamo illustrando tutti gli altri benefici 50 euro di sconto sui viaggi punti da accumulare offerte su utel bonus iniziali e tanto altro magari ve ne parlo in un altro video Nella sostanza stavamo provando a fare gli influencer ma diciamoci la verità non è proprio il nostro lavoro e forse è quasi meglio che l'audio originale si sia rovinato D'altronde io sono un pianista dell'Excel prestato a YouTube Italia che voglio solo condividere qua le mie passioni in ambito finanziario e qualche volta documentare anche le mie esperienze personali quindi lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale ciao